Ci dipingono noi del Sud come criminali. Quando si pronuncia la parola Sud bisogna stare attenti, qualcuno potrebbe sentire odore di mafia. La crisi del Sud si dice dipende in buona parte dal fatto che al Sud ci sarebbe molta criminalità ed anche per questo le aziende preferirebbero fermarsi al Nord. Tutto falso. Posto che la criminalità di alto livello esiste ormai dappertutto, si è infiltrata in tutto il mondo, resta la microcriminalità a marchiare in positivo o in negativo il territorio. Ora, secondo le analisi che spesso si fanno, il Sud sotto questo aspetto non darebbe mai il buon esempio. Ma anche questo è falso. Il Ministero dell'Interno ha diffuso i dati nazionali sulla microcriminalità nel 2013. Sapete qual è la provincia più criminale d'Italia? Stando ai luoghi comuni, voi penserete Reggio Calabria, Napoli, Palermo. Invece no. la città più criminale d'Italia è Milano. Subito dopo ci sono Rimini, Bologna, Torino, Roma, Ravenna, Genova, Firenze, eccetera eccetera. Per trovare la prima provincia del Sud bisogna arrivare al tredicesimo posto con Pescara. Bari ad esempio è al ventisettesimo posto, Napoli al quarantunesimo e le province in cui la criminalità si fa meno sentire sono tutte del Sud. Benevento, Matera, Oristano, Enna, Avellino e così via. Ora basteranno questi dati ufficiali del Ministero dell'Interno a sfatare il luogo comune del Sud, terra del crimine? Pensiamo purtroppo di no. Ormai è così. Da noi un omicidio diventa strage, un litigio diventa rissa, una sparatoria diventa una guerra. Nel Nord invece tutto è più normale apparentemente. Hanno in mano le leve dell'editoria e mettono tutto a tacere finché non arrivano i dati ufficiali, di cui però nessuno parla.